Per tre giorni Arezzo al centro del mondo con le eccellenze provenienti da ben 33 paesi di quattro continenti negli oltre 200 stand dislocati nel centro storico. Questa è la dodicesima edizione del mercato internazionale fino a domenica prossima su iniziativa di ConfCommercio con il patrocinio del comune di Arezzo, della Camera di Commercio, il contributo di Birindelli Auto e la collaborazione di Coldiretti Imprese. Nell'area Eden ed intorni si concentrerà il grosso degli stand internazionali italiani con una vasta gamma di prodotti da gustare o acquistare, tra i prodotti artigianali, gioielli e ambra del Baltico, tessuti dall'India, ceramica lituana e siciliana, argenteria e oggetti in legno o pelle di provenienza varia. Vastissima la scelta del comparto gastronomico, dalle prelibatezze greche a quelle spagnole, passando dalla cucina Thai allo stinco tedesco, fine dolci più golosi come le mini crepe olandesi, la sacchera austriaca, la pasta di mandorle siciliana e i biscotti al burro francesi, formaggi di ogni tipo con salumi e bevande. Specialità pronte da consumare sul posto, nei tavoli allestiti per l'occasione o da portare a casa. Da non dimenticare la presenza in Piazza Saiacopo dei produttori agroalimentari della provincia di Arezzo, coordinati da Coldiretti con olio, vino, frutta e verdura di stagione, formaggi insaccati di cui fare scorta. In Piazza Sant'Agostino e nella parte alta di Via Margaritone una delle novità dell'edizione 2016, la presenza del food truck, sorta di piccoli ristoranti su tre ruote che serviranno piatti gluten free, vegetariani o vegani, ma anche i più tradizionali panini imbottiti con l'appredotto, trippa o pesce di mare, poi ricette della tradizione umbra, crepe dolci salate, fondute, pancakes di frutta, succhi e centrifughe. Tra le curiosità da non perdere ci sono gli allestimenti dedicati alla natura in città. In Piazza Sant'Agostino spunterà un prato di erba sintetica di oltre 400 metri quadrati a cura dell'azienda Agraria Vannini con sedute e pancali per favorire improvvisati picnic. In Piazza Risorgimento invece nasce un romantico giardino d'autunno oltre 300 metri quadrati che sono stati allestiti con tante piante da frutto aromatiche da appartamento in versione rigorosamente autunnale. A coprire la pavimentazione della piazza ci sarà un'inusuale scacchiera di prati d'erba di diversi tipi. Per la parte dedicata al divertimento dei più piccoli ci sarà il mercato internazionale Kids nella parte alta di Piazza Sant'Agostino.